Una inconsueta conferenza stampa per il sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo, poco avvezzo, come ammette lui stesso, alle luci della ribalta. In effetti, in tanti anni da amministratore, il suo ruolo di vice sindaco non lo ha portato quasi mai di fronte a telecamere e microfoni. Oggi il ruolo di primo cittadino impone anche i passaggi mediatici, almeno quelli istituzionali. E' un saluto di fine anno con annesso bilancio dei primi sei mesi di attività amministrativa, gli ultimi se si considera la continuità con la precedente amministrazione e la sua personale, che dura ormai da diversi mandati, era un atto dovuto. Una mezz'ora molto informale con gli amici giornalisti, come le definesce il sindaco, un appellativo che ama particolarmente e che usa in svariati contesti. Una mezz'ora durante la quale ha toccato alcuni argomenti, da quelli politici a quelli di carattere più squisitamente amministrativo. Sottolineata la rappresentanza femminile in consiglio e le due donne in giunta, un esecutivo troppo risicato, con solo quattro assessori, ha dichiarato Sollazzo, ricordando gli anni Ottanta, quando le disponibilità dello Stato consentivano anche ad un paese piccolo, come Diamante, di poter dividere incarichi e deleghe anche a sette o addirittura otto componenti della maggioranza. Sull'attività svolta, il sindaco ha voluto focalizzare l'attenzione sulla redazione del piano strutturale comunale e sui finanziamenti ottenuti, in particolare quello per l'isola ecologica, con annessa raccolta differenziata che partirà a breve e che necessita di un cambio di rotta culturale per tutta la popolazione. Attenzione al disagio sociale grazie alle politiche del welfare e a soluzioni più o meno definitive per il dramma della mancanza di lavoro, dai voucher giornalieri fino al percorso di stabilizzazione presentato dal governo per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, E poi i lavori pubblici con due milioni per i ruderi di Cirella, i lavori al monastero e gli interventi sugli edifici scolastici, tutto ciò in un quadro difficile dove serve spingere ancora e più di prima verso la visione comprensoriale, allargando lo sguardo anche alla vicina Basilicata, che a sua volta si affaccia con interesse alla zona nord della Calabria e alle sue infrastrutture, su tutte la biosuperficie di Scalea, portata all'attenzione del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini.